Ex scuola Mazzini, quello che fu l'edificio scolastico per tanti allora bambini, oggi uomini e donne del centro di Bassano, resta una grande scatola vuota, senza alcuna destinazione, senza alcun futuro, senza alcuna idea, dichiara il consigliere Poletto. Anche se l'amministrazione comunale continua a dire che le idee sono tante e nessuno sa nulla, a parte le tante ipotesi, solo ventilate. Abbiamo sentito dichiarazioni da parte dell'assessore Zonta o anche della sindaca Pavan che di volta in volta hanno parlato di cose molto diverse tra loro. Un polo museale quando all'inizio dovrebbe dovuto ospitare la parte naturalistica dell'ex museo Santa Chiara, poi scuola, oppure abbiamo sentito anche uffici comunali, oppure abbiamo sentito anche centomila altre cose, servizi pubblici di altro tipo. La cosa che ci ha scandalizzato, il motivo per cui abbiamo interpellato l'amministrazione comunale, è che è chiusa e non c'è ancora un progetto, non c'è una direzione verso cui andare. Noi vorremmo che quella scuola tornasse ad essere scuola e qui l'amministrazione comunale ci ha detto che non hanno ancora deciso perché vogliono ascoltare la città, vogliono capire quali sono le esigenze più importanti. Adesso la vogliono ascoltare? Esattamente. A sette, otto mesi da fine mandato è un po' tardi per mettersi in ascolto della città, è davvero molto molto tardi. Nel frattempo dei soldi per consulenze sono stati spesi e si prefigura di spendere degli altri. Per capire come ristrutturare, come gestire gli spazi interni, che tipo di impiantistica fare, è evidente che bisogna sapere prima quella destinazione. Ecco, siamo ancora in questa fase. Ripeto, ormai a fine mandato dopo quasi cinque anni.